Cambiamo argomento, parliamo ora degli alti e i bassi del Mose, l'orgoglio e gli scandali. Ieri il via alla manutenzione delle paratoie e oggi la protesta dei lavoratori preoccupati per il loro futuro occupazionale legato ai destini delle società Tetis, Comare e dello stesso consorzio Venezia Nuova che per legge andrà liquidato. I sindacati hanno incontrato il prefetto, in ballo dicono anche il futuro della salvaguardia di Venezia. Vediamo tutto con Milva Andriolli. Prefetto, si può dire che è un buon inizio? È un buon inizio perché ho trovato la disponibilità di tutti, degli enti preposti e delle rappresentanze sindacali, perché bisogna tenere presente che si tratta di 224 lavoratori che desiderano un futuro tranquillo. 15 giorni di tempo per imbastire il dialogo con il ministro delle infrastrutture Salvini e rappresentargli la situazione. Il prefetto di Venezia riconvoca le parti per il 22 luglio prossimo. Al centro la questione dei 224 lavoratori di Tetis, Comare e CVN. Destino occupazionale che si intreccia con la fine dei lavori del Mose, la liquidazione entro due anni del concessionario, il consorzio Venezia Nuova, e il passaggio di consegne all'autorità della laguna che gestirà l'opera a protezione di Venezia dalle acque alte. Istituito per legge tre anni fa, l'ente non ha ancora visto la luce. A uscire allo scoperto i lavoratori e portano a galla amarezze e preoccupazioni. Adesso che le opere funzioni, la cittadinanza se ne accorta, e anche se accorta che noi non siamo mai coinvolti direttamente nelle responsabilità degli anni della corruzione, e questo ci dà un orgoglio rinnovato. Un disagio profondo, costretti a rivendicare e difendere meriti e professionalità. Tutti, ognuno ha fatto il suo pezzetto. Senza ogni piccolo pezzo un'opera così complessa non potrebbe funzionare. È un'azienda ricca di persone, di professionalità diverse, che può essere molto utile la città e non solo. E la questione Mose fa scendere in campo anche le opposizioni in consiglio comunale. Questo purtroppo dipende anche da una cattiva e mala gestione da parte del comune, invece che pensare ovviamente a palazzetto e sport, dovrebbe invece pensare al futuro della città, della sua salvaguardia, a partire ovviamente anche dalla questione Mose. E un cauto ottimismo è stato espresso dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali al termine della riunione con il prefetto, che si è impegnato a portare la questione all'attenzione del governo. Allora, sentiamo le voci dei sindacati. Qui il punto è che nessuno sa quello che fanno in maniera decisiva e fondamentale questi lavoratori, non altre aziende fuori da questi tre soggetti che sono coinvolti. Dovrebbero ringraziare quelli che hanno permesso la progettazione, la costruzione e la manutenzione dell'opera e che non possono essere abbandonati dalle istituzioni. Tutte le persone che operano sono persone qualificate, che conoscono bene la laguna e che possono operare nell'integrazione delle attività che l'autorità dovrà fare, che è un po' quella che faceva il vecchio magistrato alle acque, quindi ben oltre il Mose. Valorizzare e comprendere questo diventa fondamentale anche nella ricollocazione delle persone. È necessario un percorso comune che salvaguardi i lavoratori, le professionalità, le lavoratrici e tutto quello che in questi anni ha fatto chi ha lavorato sul Mose, ha fatto in modo che quest'opera ci sia, funzioni e debba andare avanti rassicurando le persone che oggi sono qui con un punto interrogativo. Quindi usciamo dall'incontro con la soddisfazione di un percorso comune e di un interesse diretto verso il Ministero. Si vuole dare questo messaggio, che c'è inefficienza in chi sino ad oggi ha operato e che l'efficienza verrà garantita da Fincantieri. Noi non abbiamo niente contro Fincantieri o contro chi arriverà, ma quello che diciamo è che se oggi c'è quest'opera è grazie a chi ci ha lavorato, non grazie a chi ci lavorerà.